Ecco queste sono le ceste che sono arrivate con il prestito interbibliotecario. Adesso procediamo allo smistamento dei prestiti e dei rientri. È molto semplice distinguerli perché sul cavaliere dei prestiti viene già riportato il codice utente di ritiro. Il cavaliere poi non verrà girato ma sarà già pronto. Invece i rientri hanno il classico cavaliere con il nome della biblioteca e il barcode. Quindi poi siamo arrivati a fare il calzone e il barcode. Allora. 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 Allora.